Se posso prendere un giocatore del Monza lo prendo sempre un buon volentino. Con il Gicchier lei non... Il Gicchier mi ricordo benissimo di quando... Di Pisa, anche noi. Sì, sì, è un giocatore straordinario, un ragazzo con cui io mi sento al di là del calcio, quindi se dovesse mai venire a Venezia sarei la persona più felice del mondo. Però adesso, come tutte le squadre, abbiamo 47-48 giocatori, abbiamo tanti esuberi, quindi prima vendere poi comprare.